buongiorno ragazzi e benvenuti in pillole di calisthenics oggi vediamo una variante piuttosto avanzata del frog stand sembrano delle banalità questi avanzamenti rispetto al frog stand ma ti assicuro che per la maggior parte non lo sono affatto prima di passare all'argomento ricordati di seguirmi iscriverti sul mio canale youtube e seguirmi sui miei canali instagram tiktok telegram ti lascio il link qua sotto dunque la variante in questione è il frog stand one leg si tratta di fare questi passaggi qua uno due diventa tostissimo a livello sia di forza per le spalle ma anche di come dire attivazione a livello dell'addome un errore che fanno in tanti è quello di magari volerlo provare senza avere ancora un buon frog stand solido ma poi tanti che invece hanno un frog stand solido magari da qua cadono giù qua così e vanno giù come dei sacchi di patate invece no la gamba che si stacca devi immaginare che sia bella incollata al tronco quasi come se non si fosse staccata in realtà lo è rimane bene appiccicata quindi da qua uno stacco anziché lasciarla cadere su giù la tiro su bene quasi bella compatta con la figura così sì che diventa impegnativo come lavoro se insomma ti stai chiedendo ma sarà difficile non l'ho mai provato faccio il frog allora vuol dire che sicuramente è un esercizio che fa per te perché rappresenta quella sfida che fa per te e ricordati questo è il concetto giusto da seguire vai a fare esercizi alla tua portata ma sfidanti e quindi che non riesci a fare subito bene di primo acchitto quindi è questa anche la logica del calisthenics è ovvio che da quello che si vede in internet atleti fortissimi ci ridono sopra vedendo questi esercizi ma noi dobbiamo considerare che nel 90 e passa per cento dei casi insomma questi esercizi per il grande pubblico per il pueblo diciamo così sono esercizi veramente tosti quindi ti consiglio di provarli se ritieni che siano alla sua portata e possono fare per te bene per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao